Buongiorno, bentrovati, buona domenica 27 settembre, quinta domenica dopo il martirio di San Giovanni Battista. Ecco il Vangelo di oggi secondo il nostro Rita Ambrosiano. Lettura del Vangelo secondo Matteo. In quel tempo i farisei, avendo udito che il Signore Gesù aveva chiuso la bocca ai Sadducei, si riunirono insieme e uno di loro, un dottore della legge, lo interrogò per metterla alla prova. Maestro, nella legge qual è il grande comandamento? Gli rispose, amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente. Questo è il grande e primo comandamento. Il secondo poi è simile a quello. Amerai il prossimo tuo come te stesso. Da questi due comandamenti dipendono tutta la legge e i profeti. Parola del Signore. Qual è il grande comandamento? La domanda che viene posta da questo dottore della legge a Gesù nel Tempio. Gesù è entrato nel Tempio, è entrato in Gerusalemme, acclamato dalle folle come Messia. I suoi avversari cercano di metterlo in difficoltà. La domanda che pone questo dottore della legge non è banale. Perché nella tradizione ebraica i precetti della legge sono tanti. Sono ben 613, 248 precetti positivi e 365 precetti negativi. E quindi capire qual è il grande, cioè il più importante tra i comandamenti, è cosa ovviamente molto rilevante. Perché se uno non lo sferva i più importanti dei comandamenti, chiaramente non può mettere in pratica nemmeno quelli di minor rilievo. Davanti a questa domanda Gesù risponde con profondità e con semplicità. Cita infatti lo Shema Israel, la preghiera che tutti i giorni gli ebrei recitano mattina e sera. Ascolta Israele, il Signore è nostro Dio, il Signore è uno solo. Cita questa preghiera che prosegue. Cioè, amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente. E Gesù ci fa capire che la prima cosa per vivere secondo i comandamenti di Dio è amare Dio. Ma subito, e questa è la sua affermazione molto importante, collega profondamente all'affermazione di Deuteronomio, quella di Levitico. Amerai il tuo prossimo come te stesso. Ed è interessante che Gesù non prosegua nella citazione. Perché Levitico dice, Amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico. Ma Gesù dice solo, Amerai il tuo prossimo. E fa comprendere che dobbiamo vivere l'amore del prossimo per vivere l'amore di Dio. In maniera estremamente sintetica, San Giovanni scriverà nella sua lettera, Non possiamo amare Dio che non si vede se non amiamo il prossimo che si vede. L'amore di Dio e l'amore del prossimo compendiano tutta la legge e i profeti, cioè sono il senso di tutta l'antica alleanza, e vengono rivelati e vissuti da Gesù. Egli per primo ci ha amati, donando la sua vita sulla croce per noi. Chiediamo la grazia di vivere nell'amore, di mettere in pratica tutti i Suoi comandamenti, l'amore di Dio e l'amore del prossimo, per essere perfetti nell'amore ed essere Suoi testimoni nel mondo. Buona domenica, stialo dato Gesù Cristo.